Allora salgono sul palco, numero 2 Capoccio Alessandro, numero 5 Nicola Favaretto, numero 8 Fabrizio Carotenuto, numero 17 Bruno Vito Antonio, numero 22 Ettore Albania, numero 69 Timonini Omar, numero 85 Miraglia Paolo, numero 86 Nembo Giovanni, la parola ai giudici. Iniziamo con la simmetria, un quarto di giro a destra, 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 un quarto di giro a dest Appertura dorsale, frontale. Dopo il precipito, frontale. Tensione toracica, la tua vostra scelta. Ciccino di lato, la tua vostra scelta. Ciccino di lato, la tua vostra scelta. Ciccino di lato, la tua vostra scelta. Appertura dorsale posteriore. Dopo il precipito posteriore. Addominali e cosce. Posa del più muscoloso. Variante vostra scelta. La vostra scelta, la vostra preferita. Pronta la giuria. Ok, abbiamo raggiunto il verdetto. Redepo down. In attesa del verdetto. Facciamo un applauso a questi ragazzi. Bravissimi. che se lo meritano. Hey, little sister, what have you done? Hey, little sister, who's the only one? Hey, little sister, who's the Superman? Hey, little sister, who's the one you want? Hey, little sister, shotgun. Allora... Allora, i numeri che chiamerò vuol dire che hanno passato il turno e si possono preparare per la routine. Quelli che non chiamerò hanno finito qua il percorso. Quanto è brutto dire così, però... E quindi andiamo. Passano il turno i numeri 5, 8, 22, 69 e 85. I numeri 2, Capoccio Alessandro, 86, Giovanni Mimbo, 17, Antonio Vito Bruno. Ci salutano. Complimenti a questi ragazzi, comunque sono arrivati fin qua. Matteo, Matteo, dovevano andare via? Eh? Le medaglie. Eh, le medaglie, sì. Devono... Il numero 2, 86, 17, devono rimanere sul falco. 2, 86, 17. 2, 86, 17, devono restare sul falco. 2, 86, 17, Vito. Scappate subito. Ok? Grazie. Prego. Pronti per le routine individuali. Comincia il numero 5, Nicola Favaretto. Perno. 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 Per genere su. Ococco. Perno. Grazie a tutti. 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 Secondo posto, Dei medio massimi del settimo campionato NBFI, il numero 69, Omar Simonini. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sulle mani, sulle mani, questi sono i finalisti.